Buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il veterinario. Parliamo di cani, in particolare di cani da pastore. Nei prossimi giorni chi vive nelle zone dove passano le transumanze potranno proprio assistere allo spostamento di numerosi greggi e mandre e a seguito ci saranno dei cani da pastore. Cosa significa cani da pastore? Possono essere dei cani che aiutano l'uomo nella guardia e nella conduzione del bestiame. Proprio in queste due parole c'è una sostanziale differenza. Il cane guardiano è il cane che ama i propri animali nel senso che difende il greggi o la mandrea da attacchi estranei come può essere l'orso, i lupi o altri attacchi che possono mettere in pericolo il greggio. Mentre il cane conduttore è il cane che aiuta il pastore o il mandriano a condurre, quindi a spostare le greggi da una parte all'altra. C'è una sostanziale differenza tra questi due lavori, questi due cani, perché il cane conduttore ha proprio un istinto come predatorio, quindi cerca di collaborare il più possibile con il pastore nella movimentazione, nell'andare a recuperare i soggetti che scappano dal greggio e in qualche modo anche a mordere nei punti giusti, al momento giusto, gli animali che non eseguono gli ordini del pastore e del cane da pastore. Mentre il cane da guardiano non ha assolutamente questo tipo di istinto predatorio, ma proprio solo di difesa del proprio greggio. Questa è una sostanziale differenza. Il rapporto che si viene a creare tra il cane conduttore e il proprio pastore è sicuramente di forte collaborazione e il diffondersi di queste razze è proprio dovuto al fatto che il cane conduttore o comunque il cane pastore può sicuramente tempiare a molte altre funzioni come fare la guardia a casa, come in qualche modo proteggere il proprio pastore e sicuramente intrattenere. Quali sono le razze da pastore soprattutto usate per la conduzione del greggio? Possiamo ricordare il pastore tedesco, il border collie, il pastore australiano, il pastore Berga e importante anche per la nostra zona, il pastore bergamasco. Bene, per questa sera è tutto, vi do appuntamento settimana prossima. Arrivederci!